Salve a tutti, io mi chiamo Baccarini Zauli Fernanda e sono la felice proprietaria di questo shizu che ha quasi quattro anni. Si chiama Casino From Odri Paradise ed è proveniente da un celebre allevamento belga. Noi in casa però lo chiamiamo in modo familiare Gigi. Questo cane come dicevo è un cane molto allegro, giocherellone, ama stare con noi in casa, preferibilmente sul divano. Però quando si fa circa le due del pomeriggio lui richiede la sua pappa e noi non troviamo pace intanto che non abbiamo preparato una bella ciotola di mangime per lui. Questo cane ci ha dato grandissime soddisfazioni, è pluricampione, è campione di bellezza italiano, internazionale, di San Marino e diversi altri stati. Questo cane come dicevo gioca sul divano ma non disdegna anche correre felice nel prato mentre mio marito taglia l'erba e si diverte a rincorrerlo e a rubacchiargli i fiorellini che sono nel giardino.